E' l'avanti al pochier! Ma è l'altro tasto! Ciao a tutti, benvenuti all'Inter. Tra pochissimo un match speciale di EA Sports FIFA 21 Volta. Le squadre Hakimi e Gagliardini contro Bastoni e Darmiani. Secondo me ci sarà da divertirsi. I vostri ratings di FIFA sono giusti? No, è il mio rating. Lo vediamo, lo vediamo. Dremling? Ma Dremling si è migliorato quest'anno, 56. E' il più veloce? Hakimi, per forza. Sai quanto hai di velocità? 95. 94. Va bene, è giusto? Poco. Prego ragazzi, giochiamo. Ma è l'altro tasto! Ma questo non vale. Mi stai anche a mezz'boglia di… Hesu! Darmian! Martiu! Darmian! Cosa tiri? Dio c'è? Adesso… Vabbè, Bastoni di destro! Non l'ho mai giocato, ma… Sono un top player! Sì, sei veramente forte! Ma guarda che ass! Dio c'è stato! Matteo, vieni dietro! Finita! Partito è stata… Ma semplicemente le abbiamo fatti andare in vantaggio, illudendoli un attimo per poi… e chiuderla un secondo dalla fine. Questo è stato il match. Diciamo che ci sono i tasti sbagliati, ma… Dall'Inter è tutto per questa partita di EA Sports FIFA 21 Volta. Vediamolo sul campo!